5 curiosità che probabilmente non sai sugli elefanti. Nella loro proboscide, che usano per qualunque cosa, ci sono più di 50.000 muscoli. Pesano dalle 4 alle 7 tonnellate, praticamente come un van pieno di persone. Un po' come i nostri che girano per l'Islanda. Hanno un regime matriarcale, comandano le femmine. Hanno il periodo di gestazione più lungo di ogni mammifero. Sto parlando di ben 22 mesi. E proprio come noi, esseri umani, anche gli elefanti possono essere mancini. Infatti, se la zona di sinistra è più consumata, vuol dire che l'animale è mancino.